ARIETE 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 BILANCIA MERCURIO TI FARA FINALMENTE VEDERE TUTTO PER QUELLO CHE E' SENZA PRECONCETTI, SOVRASTRUTTURE E SENZA FILTRI SCORPIONE NON E' FACILE Oggi TENERTI FERMO IL TUO CIELO E' IN SUBBUGLIO REGNA IL CAOS O LA DINAMICITÀ DIPENDE DA COME USERAI TUTTA L'ENERGIA CHE' NELL'ARIA SAGGITARIO MERCURIO TI INVITA A METTERE DA PARTE OGNI TIPO DI TIMIDEZZA E A GUARDARE FISSO NEGLI OCCI LA PERSONA CHE TI PIACE IL TUO CAPO LA VITA TUTTA CAPRICORNO NON SARA FACILE TENERTI FERMO Oggi UNA STRANA ENERGIA COSTRUTTIVA TI PERVADE E Oggi POTRESTI CONQUISTARE IL MONDO TI ACCONTENTERAI PERÒ DI CONQUISTARE LA PERSONA CHE AMI ACQUARIO GRANDE POSITIVITA' E FAVORE ASTRALE EPURE IL TUO SORRISO NON E' TRASPARENTE COME DOVREBBE TIMORE, PAURE, SOSPETTI IL PASSATO CHE TORNA E PORTA NON POCHI DUBBI PESCI PROBLEMI PRATICI, IMPREVISTI, CONTRATEMPI EPURE NULLA TI TOGLIERÀ IL SORRISO EPURE NULLA TI TOGLIERÀ IL SORRISO ENERGIA COSTO